questo che vi sto inquadrando è un eupatorium cannabinum pianta della famiglia delle asteracee che vi ho già descritto in un altro video in questo video mi volevo soffermare solo su un'unica cosa nella famiglia delle asteracee le foglie caoline quindi quelle sul fusto si dispongono solitamente in maniera alternata maniera alterna tranne alcune eccezioni questa è una eccezione infatti se notate le foglie sul fusto qua sono opposte quindi solitamente nella famiglia delle asteracee le foglie sul fusto sono disposte in maniera alterna e questo ci aiuta nell'identificazione in questo caso no opposte